È nata a gennaio 2022 la piccola Nevea Kragl, la figlia di Oliver e Alessia Macari, ma può disporre già di un proprio profilo Instagram. L'ex ciociara di Avanti un altro ha infatti deciso di aprire un account alla bambina, dove mostra le sue foto più belle, dolci e buffe. A gestirlo è ovviamente la subrette italo-irlandese che oltre alla tv porta Avanti, da anni, l'attività di influencer che è decisamente redditizia, una scelta che è stata apprezzata da molti mentre altri hanno storto il naso. Parecchi trovano infatti del tutto inappropriato mostrare degli scatti di una bambina così piccola. Durante una SK su Instagram Alessia Macari ha rivelato il motivo che la spinta a prendere questa decisione, tenere aggiornati i parenti all'estero, che non può vedere regolarmente, sulla crescita di Nevea. La neonata ha parenti in Irlanda, da parte di madre, e familiari in Germania, grazie al padre. L'ex vincitrice del grande fratello Vip ha spiegato che in questo modo chi vuole bene alla piccola può ammirarla quotidianamente seppur a distanza. Il profilo Instagram di Nevea è privato. Si diventa follower solo dopo attenta analisi da parte di mamma Alessia. Al momento l'account conta oltre 3000 seguaci, perché si chiama Nevea. Alessia Macari e il marito Oliver Krag l'hanno scelto di chiamare la loro primogenita Nevea perché è un nome particolare e internazionale. La subretta ha ammesso di non amare troppo i nomi comuni. Inoltre Nevea al contrario si legge. Heaven, ovvero, Paradiso, in lingua inglese. Tra l'altro Nevea è un nome diventato noto nel 2000, quando Sonny Sandoval, leader del gruppo rock americano P.O.D., battezzò così sua figlia. La vita ad Avellino. Dopo il parto a Roma Alessia Macari si è trasferita ad Avellino, dove Krag l'ha trovato un ingaggio nella squadra della città che milita nel campionato di Serie C. Insieme dal 2017, Galeotto è stato il frosinone squadra di cui è tifosa la Macari. La coppia è convolata a nozze nel 2019. Per un periodo Alessia e Olli hanno vissuto più rabbenevento. Alessia e Olli hanno vissuto più rabbia. 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 Grazie per la visione!